cari youtubers bentornati a due world fantasy 2 oggi affronteremo la zona dove c'è una palude molto grossa dove i nostri vestivari appena trovati nel tesorio di zombie la stanza di tesoro funzionano molto bene perché non ci fanno il suggerimento di veleno a nord c'è un piccolo chef quindi proviamo qua quindi andiamo a sinistra tesoro qui in alto qui c'è come fei? ma se lo cura? ma se lo cura? ma che fa tutti? no e no ma non ne corri c'è ma se lo cura? ma se lo cura? che culo? ok che culo? so che ho fatto tutto e qui si andiamo a continuare il cammino più a sinistra poi qui in alto è abbastanza lineare come le dungeon qui abbiamo trovato due hidden abs due ab curativa poi qui a sinistra e poi ancora in alto qui qui per la screta, open the magic portion it appears, as though the stone statue can be moved will you push it up in the slot, no in the slot, yes reach out, you grasp the size of the statue and push it back into place ah, our school is opening, and then we are ok and then we are and then we are re-seeing um healing 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 ¿ Scheringadini? gust1 vai ma risotto in combattimento e qui c'è un paio ok, le cristofan d'arne ecco Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon... Buon... Grazie a tutti. a parte di... con Fantasy 2.